Eccoci qua la nuova puntata, anche questa sera leggiamo un autore che mi avete suggerito, un autore che nasce nel 1883 a Torino e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma nel 1907 intraprende appunto la carriera letteraria con questo suo primo scritto, la prima raccolta che si intitola La via del rifugio nel 1907. Proprio da questa prima raccolta poi leggeremo appunto la poesia, prenderemo la poesia che leggeremo stasera. Tanto per farla breve Guido rappresenta uno degli esponenti più importanti del movimento letterario che si afferma intorno al 1910, che è il cosiddetto crepuscolarismo. Il crepuscolarismo è un movimento letterario che tratta praticamente i poeti che aderiscono a questo movimento, trattano diciamo dei temi della realtà quotidiana e della semplicità di tutti i giorni, trasposti però con un linguaggio non poetico ma appunto prosatico. Di conseguenza tutti quegli autori che vengono definiti poi da un critico come poeti crepuscolari sono definiti tali proprio perché secondo questo critico i poeti crepuscolari rappresentano diciamo il tramonto della poesia moderna italiana. Quindi è iniziata con Parini e poi abbiamo Pascoli, finita con Pascoli appunto d'annunzio. Allora i temi che Guido riporta nelle sue opere, nelle sue poesie, sono temi che hanno a che fare anche con il decadentismo, quindi la malinconia, la fugacità della vita, la transitorietà dell'essere diciamo così, poi soprattutto anche la nostalgia per esempio della vita fuori dal tempo, ovvero della vita fuori dalla serenità e dalla rassicurante provincia cui vive oppure dell'amore sognato e mai realizzato. Quindi sono temi quotidiani che si vivono nella realtà quotidiana, anche la morte, che si vivono nella realtà quotidiana e che cerca di trasporre nelle sue poesie anche con un linguaggio semplice, un linguaggio che riesca, uno stile diciamo narrativo, che riesca sempre di più appunto a, come posso dire, a spiegare la realtà insomma e le piccole cose. Però appunto dietro si nascondono una serie di complessità comunque. Quindi leggiamo il sonetto Speranza. Allora, il sonetto lo sappiamo com'è composto ormai, due quartine e due terzine, e leggiamo insomma. Il gigantesco rovere abbattuto, l'intero inverno giacque sulla zolla, mostrando in cerchi, nelle sue midolla, i centonovant'anni che ha vissuto. Ma poi che primavera ogni corolla, dischiuse che con le mani di velluto, dai monti nodi qua è la rampolla e sogna ancora d'esser fronzuto. Rampolla e sogna, immemore e scuri, l'eterna volta cerula e serena, e gli ospiti canori e i frutti e lire, aquilonari e i secoli futuri. Non so perché mi faccia tanta pena quel moribondo che non vuol morire. Niente, facciamo veloce veloce un po' il punto della poesia, nel senso che cosa ci racconta? Che un enorme albero di rovere, appunto in seguito al suo abbattimento, dopo essere stato abbattuto, è rimasto sul terreno per tutta la stagione invernale. E come appunto dimostra il tronco tagliato, appunto nel tronco tagliato vediamo i cerchi, contiamo i cerchi, che indicano quanti anni appunto il rover in questo caso abbia, aveva all'incirca 90 anni, 190 anni scusate. Quando poi inizia la stagione primaverile, che ha a che fare con lo sbocciare dei fioi, con questa maniera delicata eccetera, dall'albero sono iniziati a scorgersi dei nodi, si vedono della corteccia, come se appunto la corteccia avesse creato dei nodi, come se l'albero stesso avesse voluto coprirsi, volesse coprirsi di nuovo di foglie, come se ci fosse un accenno ancora di vita. Quindi, l'albero però ha una sorta di memoria, cioè cerca di dimenticare, diciamo, il taglio che gli hanno fatto, i vari tagli che hanno provocato il suo abbattimento e quindi ha nuove germoglie e sogna appunto di avere in futuro un cielo sereno e azzurro. Gli uccellini cinguettano, i frutti crescono, i venti furiosi che vengono da nord, insomma c'è tutta un'ambientazione. E quindi questa ambientazione che si crea come a far capire che l'albero in realtà ha davanti a sé una vita lunga, lunga secoli potremmo dire, no? Quindi il poeta di fronte a questa scena non sa capire perché, non riesce a capire perché gli fa tanta pena quell'albero, che è mezzo appunto, come dice, quel moribondo che non vuol morire, che è mezzo moribondo e che nonostante appunto tutte le ferite, nonostante il fatto che sia stato abbattuto, non vuole appunto, vuole vivere, vuole continuare a vivere, non vuole darsi del vinto. Quindi qui, considerando anche la posizione in cui era il poeta in quel periodo, cioè la condizione proprio di malattia, eccetera, possiamo pensare che sì, l'albero è come se fosse un doppio, cioè mi verrebbe da dire, cioè un io che guarda a sé stesso, un poeta che guarda a sé stesso, che si ritrova, si proietta in quell'albero, che, vabbè, per fortuna, diciamo, non è ancora giunta l'ora, però insomma, sicuramente se uno riceve una diagnosi così, insomma, non è che subito dice, oddio, sono ottimista che tutto andrà bene, poi anche perché, insomma, sono percolosi. Ora, io non ho studiato bene il poeta, quindi può darsi che qualcosa sia andato storto, però comunque, fatemelo sapere, perché, come vi dico sempre, imparo anch'io insieme a voi e io vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo domani.